E' stata inaugurata, dopo diversi anni di attesa, la nuova aula consigliare del comune di Sassano, ricavata dall'ex struttura municipale mai realizzata e più nota come Ecomostro. Il taglio del nastro si è svolto oltre che alla presenza della ministra alle politiche agricoli e Teresa Bellanova, anche di Vittorio Brumotti, inviato speciale di striscia alla notizia che dieci anni fa, circa, si era recato sul luogo dell'Ecomostro per denunciare la presenza della struttura pericolante, fatiscente e decisamente non adeguata al contesto storico, facendosi promettere dal primo cittadino una immediata soluzione. Inaugurare una sala consigliare in un luogo che ha avuto tante traversie, come quello di cui oggi stiamo parlando, è un segnale di interesse alla gestione del bene comune. Recuperare luoghi dove si sono impegnate risorse, che sono risorse dei cittadini e poi sono stati abbandonati o non sono stati messi nella fruibilità delle persone, io credo che questo è un impegno importante che da solo parla della qualità della buona amministrazione, del buon governo e insieme a questo credo di dover dire che è anche un segnale di legalità, perché consumare risorse pubbliche, consumare risorse che togliamo al futuro dei nostri figli, significa alimentare anche una cultura dell'illegalità, del disprezzo del bene comune. Noi invece dobbiamo fare esattamente il contrario e investire sulla cultura della legalità, sul recupero delle aree interne, sulla possibilità di spostare anche, di decongestionare le grandi città, invitando le persone a spostarsi ma creando anche le condizioni perché le persone possono vivere con la stessa tranquillità e con gli stessi servizi con cui vivono nel centro di una grande città è un segnale di grande maturità di una classe dirigente. Il nodo al fazzoletto, come facciamo di solito, è stato sciolto. Un plauso a chi si è impegnato e per fortuna è una bella soddisfazione anche per il nostro lavoro di striscia alla notizia, far sì che queste opere incompiute, questo spreco di denaro pubblico venga restituito ai cittadini. Dunque con i suoi tempi ce l'hanno fatta. Ringraziamo allora coloro che ci hanno segnalato, che hanno detto Brumo vieni da noi perché c'è un ecomostro. Dunque il cittadino, come disse un'importantissima persona, bisogna togliere la terra dalla sabbia, tirarla su e denunciare. Denunciare che sia uno spreco di denaro pubblico, che sia una situazione di illegalità o qualcosa che magari tralasciato da una vecchia amministrazione. In questo caso non tutto il man viene per nuocere. Eccoci qua tutti insieme a fare i pipurrà per qualcosa che è stato completato. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Sassano, Tommaso Pellegrino. Dopo anni di sofferenza, di tante situazioni, di una serie di difficoltà, oggi ci siamo. Restituiamo ai cittadini, alla comunità di Sassano, il luogo per l'antonomasia dei cittadini, che è l'Aula Consiliare. Siamo veramente contenti che oggi, con la presenza anche del Ministro, quindi un rappresentante del Governo, mancava da un po' di anni un Ministro Sassano, possiamo finalmente inaugurare la nostra Aula Consiliare. Siamo veramente molto orgogliosi. Avevamo assunto un impegno qualche anno fa e oggi possiamo dire di averlo mantenuto definitivamente non solo con la riduzione dei due piani e mezzo, ma anche con l'apertura e con la restituzione alla comunità di Sassano dell'Aula Consiliare.